È necessario precisare come, di fatti, gli MRMI dal primo febbraio siano effettivamente scesi a lavorare. La fattispecie, quindi la manifestazione odierna, è legata ad una garanzia relativamente a quello che può essere il mese di gennaio. Per cui, rispetto a questo, stiamo verificando con i dirigenti e poi lo verificheremo anche con l'assessorato regionale. Speriamo in tempi brevi, almeno da parte nostra, è quello di potergli dare una risposta in tempi brevi. Per cui, è strana, non ce l'aspettavamo, perché comunque il primo febbraio ha precisato che gli stessi sono già scesi regolarmente a lavoro. Però loro sostengono che c'è la copertura finanziaria da parte della Regione e dunque adesso tocca al Comune. Loro lo sostengono, noi riprendiamo atto, siamo anche noi convinti che possa essere così, però, come non siamo a casa nostra, ci sono degli itere, delle cose che devono essere necessariamente rispettate, per cui speriamo e ci auguriamo che insieme ai dirigenti di riuscire in tempi brevi in questo e potergli dare la risposta in tempi cederi. Piazza Municipio è divenuta oramai piazza delle proteste, tutti chiedono interventi immediati alla Giunta Comunale. Questa è una città in cui lo stato di bisogno, la situazione è così complessa e difficile che dire che non ce l'aspettiamo è francamente dire, per certi versi, anche una mezza bugia. C'è una situazione difficile in questa città e quindi spesso la protesta diventa anche un modo da parte di tanti di provare ad accelerare determinati percorsi. È giusto, è giusto che sia così, però è un fatto oggettivo nel senso che la situazione in questa città è parecchio complessa. Dunque possiamo dare una data a chi protesta per la risoluzione del problema? Ci riferiamo agli RMI. Speriamo, arrabbedisco, che nei primi giorni della prossima settimana riceviamo anche noi degli riscontri oggettivi e potergli dare concretamente una risposta.